siamo appena arrivati ciao a tutti ragazzi come stiamo giocati ci siamo guardiamo un primo episodio ci faremo 5 episodi che saremo in tenda raga allora c'è il telecarmanman che sta montando il raga se lo vedete con i capelli bianchi e adesso sto registrando allora raga adesso vi faccio vedere le pizze che stiamo facendo andiamo queste quali piazza che stiamo facendo quando si vanno a finire la tenda scusatemi scusatemi aspettate che sto lanciando da 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 è stato raga in un momento da 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 di da 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 installations se non avete capito devo mettere tutte le punte qua così devo metterle tutte dritte capito? allora cominciamo a farlo è difficile no 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 è difficile ok uno è andato continuiamo con l'altro vedete sono questi qua per il bastone ne prenderò ok ragazzi ragazzi sono una tecnica mi metto tutti per dritte così si mettono tutti per dritti sono tecnici non è così proprio però meno ok 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 adesso lo infiliamo Ah si, adesso vado ad infilare la corda, quello che ho appena montato, raga. Ah, che dice il carro. Lo spingo, eh? Spingo. La spesa, ti toglie il via. Ok, bravo. Ho dispresente la corda, adesso devo spingerla dentro. Adesso la spingo, vado. Vemmi, vim. Vemmi, vim. Vado. Vimmi. Vimmi. Vimmi, vim. Vimmi, vim. Vimmi, vim. Vimmi. 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 e poi facciamo la dormita, poi dopo non faremo solo il primo episodio, questo qua è mezzo questo qua è solo la prima parte, la seconda parte è dormire, la terza parte facciamo da mattina faremo forza anche 10 episodi ma non saranno 10 giorni, 5 giorni da un pezzo dal mattino alla sera, che saranno tipo delle ore vorrei fare un episodio, un ultimo episodio, mattino, no mattino è pomeriggio, no oggi questo è l'episodio, la prima parte, sempre la prima parte quando ho fatto la prima parte, dico sempre la prima parte, poi scrivo P vuol dire pomeriggio, invece quando scrivo S è sera e quando scrivo N è notte, vabbè la notte non serve, quando scrivo M è mattino, P pomeriggio, S è sera comunque adesso voglio continuare, quando ero di pranzo ragazzi e poi iniziamo quello del pomeriggio, del pranzo ma aspetta devo spingere dentro adesso raga adesso dobbiamo andare a fissare tutta quella cosa della tenda che sta facendo telecarmo dobbiamo fissare perché se no raga non puoi andare così e non ci mettiamo sotto cioè, raga non possiamo fare così si, non possiamo fare così raga non possiamo fare così allora raga, adesso andiamo con internet a montare e poi dopo ci vediamo ancora non saranno così, provo e provo di montare già, cia, cia, cia raga, troppo difficile, non l'avevo nemmeno provato ma ho chiesto se era difficile difficilissimo raga adesso vi porto un po' in giro per farvi vedere la zona ok, aspetta che prendo il bastoccino ok, all up uno, due e tre aspetta ok adesso raga vi faccio vedere qua c'è la nostra macchina ma vi faccio vedere la terza perchè se no non posso farla vedere poi c'è la cucina di un pazzo giochi dopo raga qua c'è il bagno vedete c'è scritto qui faccio il bagno dopo qua c'è tutto tutto il baule dopo la c'è da cucinare la, aspetta adesso vi faccio vedere dove va dove noi cuciniamo adesso vi faccio vedere guarda saremo qua nel porticino vedete un fiumicello qua ci sederemo a mangiare anche dentro la tenda qua vi fa la griglia qua si fa la grigliata raga guardate qua si fa la grigliata poi dopo raga comunque se volete venire anche voi qua non vi lascio il sito basta dovete andare a cercare su google hobo camping e poi dopo dovrà spuntare questo poi altri tavoli qua dopo c'è la piscina di qua c'è una piscina no non c'è una piscina vuol dire una cucina dove cucineremo guardate qua dove cucineremo dove faremo il pranzo e la cena poi gli altri sono tutti tutti in camion che camion così io camper raga se non lo vedete perché c'è sole ma dopo c'è anche la zona tila raga poi siamo vicini siamo vicini raga stiamo vicini alla cucina la griglia dove ci fa la griglia al bagno anche la e poi anche bellissimo raga molto bello questo posto raga ve lo giuro raga vi giuro che è molto bello questo posto è bellissimo e lo consiglio raga glielo consiglio è troppo bello raga ecco qua dietro ci sono i cestini per raga raga ria molto bello soprattutto perché ci sono le piscine due signori sono anche molto simpatici e poi ancora qua oggi sono le mucche guardate sei riuscito a vederle a vederle se non le vedete poi vi faccio una foto come se non posso sono riuscito a vederle da sopra perché sono molto vicine vedo che questo è molto bello qui c'è il bar e poi c'è il bar che adesso vi faccio vedere i bar vi faccio vedere i bar 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 allora scusatemi che metto il bastone e il bastone ok raga raga adesso vi faccio vedere il bar faccio il bar vediamo ci faccio vedere il bar Se avete presente quella scrittura là di lei che non è bar, non posso entrare perché insomma devo censurare le persone, dietro là c'è il minimarket, adesso devo aiutare Raga aspettate un attimo che devi fare l'internet careramen Ecco, ecco Marcello Dali i picchietti Scusate, adesso devo farvi vedere davvero il minimarket Allora, minimarket, non arrivo Ok, tac E andiamo Allora che ho fattovi vedere il minimarket Vi faccio vedere il minimarket Allora, oddio, c'è un vento della maradona Allora, lo giuro, c'è un vento della maradona Adesso vi faccio vedere il minimarket Se vedete là, c'è la stazione dove come C'è la frenata Ragazzi, ragazzi, ragazzi Ragazzi, ragazzi Ragazzi, ragazzi Vi giuro che torna nel tempo Bellissimo Guardate questo Vi giuro che è bellissimo Adesso ragazzi Adesso aspetteremo Monteremo la tenda Poi dopo Molto attratto ragazzi Andremo A preparare il pranzo Che sarà la pasta, credo E poi dopo Ragazzi Dopo Raga Dopo Raga Vi faccio Dopo Il pomeriggio Un po' Un po' Indovinelli E poi Dopo Un po' di giochi Dopo Il pomeriggio Forse Andremo fino alla sera Boh Faremo il pomeriggio Inizierò il video più o meno alle 5 Dopo Lo imposterò Lo imposterò Raga Il video sarà alle 5 Alle 5 Alle 6 Alle 5 Alle 8 Alle 5 E inizierò il video alle Alle 6 Anzi no alle 7 E prenderemo le 8 E inizierò questo qua E il mini market Guardate che mini market Mini market E poi di là c'è il bar Di là c'è il bar Che credo che credete Che c'è un bar In un campeggio Credo che ci sia un bar In un campeggio Di crescere Credo che un Unicapredo deve essere Kimadino Se haiibles O il cappuccino Tu hai la macchina Del caffè Ma potresti Fatti caffè La macchina del caffè Tu provi al bar No Te lo compri al bar Poi ti fanno Il caffè al bar O ti compro Una macchina del caffè Nel mini market Raga Non ho capito Adesso raga Ah non ho ancora fatto Il bar Non ho ancora fatto vedere Questo e c'è raga una lavanderia dove laviamo i piatti adesso andiamo a vedere il canaman adesso farò fermo faremo il mezzo finirò il video poi montiamo la tenta dopo che abbiamo montato la tenta faremo il video del prazo poi dopo faremo il video del pomeriggio che mi sarà alle 7 e sempre a 145 fino alle 8 poi dopo scriverò episodio 1 in pomeriggio ma raga spero che vi sia piaciuta la prima parte del mattino lasciate il like e iscrivetevi al canale queste qua sono le condizioni queste qua sono le condizioni per il caro romen ciao 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 ciao